Anche i Vigili del Fuoco di Vallo della Lucania celebrano la festa di Santa Barbara, protettrice dei caschi rossi. Domani, 4 dicembre, alle ore 9, presso la cappella del seminario, sarà celebrata la Santa Messa, priseduta dal Vescovo Ciro Miniero. Al termine della Messa saranno benedetti gli automezzi con il volo dei palloncini in ricordo dei colleghi deceduti ad Alessandria. Alle 10.30, presso la caserma, ci saranno delle esercitazioni a circuito ludico per gli alunni delle scuole. Questa festa di Santa Barbara arriva a pochi giorni da un altro importante incontro. A Vallo della Lucania avete avuto modo di confrontarvi con il Presidente del Consiglio Conte, tante le difficoltà che riscontrate ogni giorno. L'occasione di Vallo della visita del premio è stato un momento in più per ricordare al Governo centrale quelle che sono le vostre emergenze. Sì, praticamente abbiamo avuto due momenti con il Presidente Conte. Innanzitutto vogliamo ringraziare il Senatore Cassiello che ha organizzato questo evento, un evento importantissimo per tutto il Cilento e Vallo del Diano. Noi abbiamo più sedi come Vigerfuoco sia nell'ambito del Cilento che nell'ambito del Vallo del Diano, perché noi abbiamo tre sedi, di cui una è Vallo della Lucania, l'altra è Santa Marina in Policastro e l'altra è Sala Consilina. E a breve sarà anche decretato il distaccamento di Agropoli. Quindi un momento importante per la nostra comunità avere la presenza di Vigerfuoco in un territorio così importante e così vasto. Abbiamo consegnato una targa di ricordo come Vigerfuoco, come amministrazione, perché volevamo suggerire proprio il passaggio del Presidente Professore Conte nel Cilento e quindi abbiamo voluto dare un gadget di ricordo. Dopo abbiamo avuto un altro momento, un momento sindacale, proprio per rivendicare quelle che sono le battaglie da sempre. Praticamente noi abbiamo constatato con il Presidente stesso che le somme a disposizione, per quanto riguarda la legge di bilancio, sono esigue. Lui l'ha riconosciuto, però purtroppo per il primo anno sono solamente 25 milioni di euro messi a disposizione per Vigerfuoco che andranno poi nel tempo a incrementarsi. Però al momento attuale queste sono le somme disponibili per aumentare quelle che sono l'intennità di Vigerfuoco, perché abbiamo degli stipendi rispetto alle altre forze di polizia che non corrispondono alle esigenze poi reali. E praticamente abbiamo discusso di questo col Presidente, un incontro cordialissimo ci ha ricevuti con grande piacere, anche perché un mese fa già eravamo stati da lui, convocati con tutte le altre organizzazioni sindacali e quindi ci ha fatto piacere rincontrarlo e verificare se effettivamente da quel giorno c'erano delle risorse in più però purtroppo lui non ha potuto mettere a disposizione ulteriori fondi perché la legge di bilancio bisogna un po' far quadrare i conti nazionali. Questo è stato il succo dell'incontro, un incontro piacevole, ripeto, è stato molto proficuo.